carissimi amici del museo civico di beriguardo siamo ancora nella stazione archeologica del museo oggi vorrei parlarvi dei bronzi a parte il diploma e corno di cui vi ho già parlato in altri video volevo farvi vedere innanzitutto questi simpatici leoncini sono molto particolari sono due leoni forse giovani perché hanno la criniera corta ogni leone appoggia la zampa su uno scudo e in ogni scudo è rappresentato il dioattis il dioattis è il paredro il familiare che vuol dire che era fidanzato marito amante così via l'adea cibele l'adea della prosperità di aria anatolica in molte rappresentazioni dell'epoca cibele è rappresentata su un carro trenato da due leoni quindi questo piccolo oggettino potrebbe essere un frammento di una statua di carattere sacro dietro si vede quella specie di tazzina con una piccola ansa in realtà in epoca romana siamo sempre fra il primo secondo secolo dopo cristo l'ansa era più lunga quella è un attingitoio serviva per prendere il vino dalle anfore e metterlo poi nelle coppe e quant'altro sempre da questo ripostiglio la dea minerva la dea minerva era la dea della saggezza ma anche delle misure non a caso forse questo è un peso da bilancia iside alta divinità orientale un lare questa forse era la parte superiore di un candelabro e tre frammenti di un'asserratura che se ci fate caso è quasi identica a quella di oggi copritoppa e chiavistello e per dirla tutta identico ad oggi la pinzetta per le ciglia le unghie così via tre frammenti di un vaso un piatto di bronzo e uno piccolo scappello e un'ansa di un vaso in bronzo purtroppo è rimasta soltanto l'ansa vi ringrazio ancora dell'attenzione e alla prossima